Buona domenica da parte del commissario. Il commissario ieri sera ha indagato in quella di Bologna e dintorni, mangiando anche una focaccina col gelato pistacchio alla stracciatella, ottimi gusti anche cinematografici da parte del commissario Falò. Vi ricordate il film il Falò delle vanità. Voi siete troppo vanitosi ma non avete qualità. Il commissario è sveglio, vi sorveglia e sempre desto in un mondo modesto. Modestamente il commissario sa improvvisare di filastrocche. Il commissario va in giro, guarda le belle gnocche e delle buone patate sgranocchia. Il commissario è un uomo che vive di notte, di giorno, che ben si veste, poi i cattivi sveste, denuda. Il commissario ha occhio, sa sbugiardare ogni pinocchio. Il commissario non è finocchio, ma in senso metaforico lo ficca nel popò a ogni uomo. Che niente popò di meno che la quintessenza della bruttezza della sua anima sfatta. Un uomo oramai strafatto, imputridito. Il Falò lo combatte in modo inaudito. Ma buona domenica fa molto caldo. Quel di Bologna venne a grandinare ieri sera. La serata pallida. Cerulea. Il commissario ha ancora una bella cera. E cosa sarà la nostra vita? C'era una volta c'è ancora. È proprio qui che comincia la salita. Comunque sta registrando questo pezzo a luna e in punto di questa domenica caliente. Colina in bocca, la saliva. Il commissario non sa più che dire. Il commissario sa vedere al di là del proprio naso. No, del vostro. Abbiamo detto che siete come Pinocchio. Il commissario va di notte a volte con le scarpe tutte rotte, ma non è una befana, lo ficcarellano. A ogni uomo che alla fine di quest'anno non saperà nella notte di San Silvestro lo spumante. Cosa vuole dire con questo il commissario? Il commissario sa e anche i cattivi sanno che lui c'è. C'era ci sarà e l'inchiabetterà. 44 45 45 38 39